L'arma dei Carabinieri di Palermo Recepì e accertò la nuova dimensione di questa organizzazione mafiosa Una dimensione nazionale e non solo nazionale Ed instabilì anche il potenziale criminogico Quando eravamo ragazzi a vent'anni E raggiungevamo l'ambito ingresso nell'arma Gli Alamari erano la cosa più esaltante insieme alla fiamma della nostra istituzione E ricordo ancora che facevamo a gara, anche con qualche sacrificio di stipendio Nel farci di cucire sulla giubba Non applicare, ma proprio cucire sulla giubba Come se volessimo che ci cucissero sulla pelle E' una verità per esempio Che la nostra Costituzione Quella che noi viviamo Quella che molti ricordano di tanto in tanto Ma che noi difendiamo giorno per giorno Che esiste un potere Questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle leggi Il barbaro assassino del generale della chiesa e della sua giovane moglie Non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione Ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso Sembrano infine ritrovare animo e forza di convinzione Quelle parole che dalla chiesa pronunciò nel corso di un'intervista appena qualche settimana fa Non chiedo leggi speciali Chiedo chiarezza Mi fido della mia professionalità Sono convinto che con un abile paziente lavoro psicologico Si può sottrarre alla mafia il suo potere Sottotitoli e revisione a cura di QTSS